C'è qualcuno? È italiano? Sì? Ok, vai mo. Salutati! Ehm, dai, ma chi sta troppo? Undici anni con Giorgia. Ha detto chi sta troppo? Hai sentito? Dai, chi è italiano? Io. Oh, Virgi. Anch'io? Mi sentite, raga? Mi sentite? Anch'io? No, 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 sei tu? In che senso? No, no, dai, mi sta prendendo un colpo, dai, oh, Giorgia. Ma Giorgia, ma non so neanche se è italiana, Giorgia. Giorgia? Ma chi vaga sul due? No, vedo la mappa... Kratos? No, 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 dai, state trollando, no, vi prego, potete accettarmi la richiesta, io vi seguo fatici. Ma aspetta, ma non ho capito in che senso. Io ti conosco. Allora, facciamo una cosa, se vinciamo il game te l'accetto, ci stai? Dai, ci sto anch'io, ci sto anch'io, ci sto anch'io. Fra, ho la grafica buggata. Tranquillo che la vinciamo. Certo. Oh, no. Se facciamo così, adesso con la squadra, ok, vai andiamo. Proviamo. No, io non ci credo. Dobbiamo fare una win, ragazzi, ormai l'ho deciso, deve essere win. Ok, ok, ok. Basta, uniamo. Dai, che se vinco mi dà la richiesta. Io vado sempre a Daily Google che mi trovo primario, però andiamo lì. Ce l'hai il Gatorade vicino? No, lascio i gamonini di vaso. Perfetto. Troppo piccolo per i butti. Onesto, onesto. Non ubriacare con il Gatorade al succo alla pera, mi raccomando. No, no, quella mostra è la collezione che è qui. Il succo alla pera l'ho bevuto a merenda. Ma è uno spettacolo. Ce lo giuro. No, 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 me li coni. Stavo giù, stavo giù. Stavo giù. Quanti ne ha? Virgi. Virgi. Io ho dieci. Ah, io ho dodici. Appena compito giù. Ma, ma sono piccolissimi. Sparo le bombe. Ho infopato tutto. Morto uno. Da dietro, da dietro. Morto uno. Morto uno. Cento uno con le case, le... Morto di tutti. Morto di tutti, morto di tutti, morto di tutti. Siamo dei pro. Venite con i pro, facciamo questi. C'è la fortuna, bro. Eh, bro. Sai quanto aspettavo questo momento, perché io lo so che trollate un po' così ogni tanto. Infatti la sera provo sempre un po'. Sì, ogni tanto le facciamo giusto per cambiare un po', perché poi sempre Arena è noiosa. Sì, scoppia la testa. Eh, sì. Mettiti dentro la tenda che ricuperi i tanti. Ah, grazie. E' carino. Vai, va, andiamo a cercare un po' di personcine, va. Vado. Da quanto giochi a Fortnite, Diego? Eh, io ho iniziato dalla season 2, proprio quando c'era il Cavaliero Nero, però... Cioè, non era mio l'account, era di mia cugina. Ok. Però dalla mia play nella season di Akame. Poi ho iniziato a migliorare, a fare doppi edit così, perché mi allenavo e volevo competere. Adesso qualche volta, perché ho visto che sono a 4.000 punti, provo a competere con la mia duo così. Ok, ci sta, ci sta. E' un piccolo sogno che ci vuole avverare. Beh, è una cosa bella, eh. Ah, è un demon. Dopo devono fare i compiti, però sono brava a squadra. L'importante è che sono brava a squadra. Sì, sì, sono un po' stato abolizzato, eh. Cioè, mi stanno ancora un po' abolizzando, però... No, perché? Eh, eh, mi dicono che sono brava. Cioè, non è vero. Non ascoltarli. Non ascoltarli. Tu nel dubbio, scusami la parola, ma andavi a cagare. Perdonami la parola. No, sì, sì, cioè, vogliono fare rissa, ma... Io, allora, no, stavo andando a Muccia, e non prendiamo il pulmino, no? Allora, tipo, c'era la neve, allora io mi sono incazzata, ma... Perché io tengo tutto dentro, dopo esplodo. Ok. E tipo, allora, c'è la palla di neve, l'ho presa, le l'ho buttata in faccia, e l'ho spinto contro la recensione e gli ho detto, se lo fai ancora una volta ti uccide. Quel giorno non mi è venuto più. Bene, non è facile colpire con le palle di neve, devi avere della bella in. Vabbè, gli hai fatto un headshot con lo spas, praticamente. Esatto. Eh, sì. Ah, ma voglio adottarla adesso. Sì, anch'io lo voglio adottarla. Possiamo avere un bambino, voglio lui. Sì. Quindi, tipo, stasera se facciamo la vittoria, cosa facciamo? Se facciamo la vittoria ti mando la richiesta, e te la manda anche Giorgia, penso, giusto? Esatto, esatto, esatto. Poi se facciamo la vittoria può essere che esca il video sul canale di Martina, ti credo. Eh, sì, sì, sì. Eh, sì, sì, se esce la vittoria lo metto sul canale. No. Sì, sì. Mi vanterò, cioè, non mi vanterò con i miei amici, però lo farò bene. Vabbè, puoi farlo, cioè, puoi vantartene. Perché no? No. C'è un lupo che mi vuole mordere le chiappette. Sarebbe il mio sogno, veramente. Ma il tuo sogno è mordere le chiappette di Giorgia o il video? Non ho capito. No, ho capito, hai detto una cosa, non ho capito. Ho capito, non ho capito il senso. Che scherzio è il video. Ah, ok, scusate, scusate. Le mie chiappette sono intoccabili. Eh, ovviamente. Ma poi, una domanda, no? Non per offendere. Ma voi state insieme o no? Sì, sì, stiamo insieme. Certo. Ah, vabbè, ha fatto bene. Cioè, io non sono neanche contro la LGBT, ma, cioè, me ne frego, perché ognuno può fare quel tavolo che vuole. Ho d'accordo. I 12 anni 6.000 volte più maroturo di altri molti più grandi. Concordo. No, ma poi, c'è, non ha senso. Se uno vuole fare una vita propria, che ce la fa? Ma è carino! No, lo voglio adottare. Non vengare un periscato. Ho una domanda, ma... Cioè, a me non mi dà fastidio. Cioè, ti posso adottare? Se hai baciato in pubblico così. Basta non guardarvi e boh, cioè, se ci dà fastidio basta ignorare. Eh sì, ma infatti, com'è giusto che sia, d'altronde. Ma, ti posso adottare? No, io... Allora... Io, si può. Se volete, io sono libera. Ti adottiamo, eh? No, no, davvero? Ti mettiamo in casa. Allora, io... A me mi fa piacere. Ma no! Ma che senso! Ma che senso! Poi, con mia mamma, eh, cioè... Ma che senso! Faccio fermare, contro... No, no, per me va benissimo. Ho la vita da youtuber. Sei un grande, comunque. Dechetto, ti giuro, sei veramente un grande. Mi fa morire. No, no, davvero, sai. Poi vado a lavorare. Se volete vi do anche i soldi. Questo sarebbe un po' sfruttamento, forse. No, no, per me no. Ah, ma è un temone? No, io lo voglio. Ma perché mi stanno venendo tutte ste richieste d'amicizia? Vabbè, poi quindi... Vento che no, a me mi piace... Oh, a me mi piace voi no. E racconto a scuola ogni tanto, no? E voi di... Sto facendo così... E se faccio tutti da tenere insieme... E allora qualcuno, le l'ho dato proprio volentieri, no? Oh. Madonna, conosco proprio... Vediamo andando insieme. Le faccio schifo. Vedi tre... Eh, vacca, l'ho laserato. No, 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 sono morto. Chi è che non ha cura? Io. Vieni qua, vieni qua, le mie sprecciate. No, no, vado di cosa? C'è anche un succo alla pera, se volete, qui? Basta che non ci brecchiamo con il succo alla pera. No, no, no. Ho un succo alla pera. Alla pera. Un succo alla pera, un succo alla pera. No, un succo alla pera. Come mi piacete. Io non vado a dormire. Marta, uno? Uno. No, ma un grande. Non avrebbe beccato un così simpatico. Sì, veramente. Mi ha sniperato. No. Eh, lo pusho, lo pusho, lo pusho. No. Ci sono snappi in partita? Potrebbe essere. No, ma... Oh, ma... Oh, ma... Dai, no, no, ma sti qui sono seri snappi, dai. Eh, dai, 103 a questo. No, dai. Arriva, riorio. L'altro, ho one shot fatto, anche l'altro. Arriva un altro. Oh, io ne ho fatti due qua. Sono un nevole, sono un nevole. Dai, dai, sì. Dai, 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 dai. Dai, dai. Siete fortissime, ragazzi. Siete fortissime, complimenti. Grazie. Allora ti restiamo. Prendiamo la card e andiamo. No. Ho fatto una porcata. Bell'è una porcata. Bell'è, miro. Bell'è, miro. Bell'è, miro. Bell'è, miro. Bell'è, miro. Eh, la miseria. Cerco di andare degli altri altri. Dai, io scoppiero. Hai, me l'ho fatto cadere uno? Ok, no cato. Vai pure a prenderti loot, Digito. Ma siamo contro le ultime due squadre, ragazzi. È vinta. È vinta, è vinta, fidati che hai vinta. È vinta, è vinta, è vinta. No, 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 non è vero, non è vero. Fidati che hai vinta, è vinta, fidati. Sìììì. Gente qua, gente qua. Craccato. Marto uno. Ho fatto un po' di hit. Scusa, fugga, 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 fugga. Ecco, no. Vengo, Virgi, vengo Vengo, vengo, sei tranquillo Stop, non ti finirà, Virgi Morto uno Dov'è? No, non c'ho più morta, ragazzi Ne manca un'altra Manca l'ultimo Eh, manca l'ultimo giocatore Abbiamo vinto, ragazzi L'ultimo giocatore Sì, quindi è vinto È vinto, certo Mi ha distrutto C'è un pro player No, non c'è 21 bianco, è bianco, è bianco, dai Ed è morto! Yes, go! Sì, 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 sì Sì, 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 sì Let's go! Saluta anche YouTube Dieguito che uscirà il video, eh Ciao YouTube! Aspetta che ti mando la richiesta Aspetta Anch'io, aspetta Vi è arrivata la mia, ragazzi? Sì, sì, sì Ritorniamo al lobby A posto Sì, sì, ma adesso forse No, andiamo a fare Non so cosa facciamo Forse stacchiamo, non lo so Però almeno adesso avete la richiesta Dai, ragazzi È stato veramente un piacere Sei veramente fantastico, Diego Ciao Ciao Virgi, ciao Ciao, bello mio Ciao ragazzi Ciao, ciao, ciao Sono spettacolare No, erano spettacolari Mi sono innamorata Cioè, Dieguito Sì, perché ha tipo riempito il cuore Cioè, ti giuro Parlavano così Troppo tempo No, Virgi era tipo timidissimo Perché era più piccolino Dieguito invece Dieguito Che ha preso una palla di neve E io l'ha sparata in fa Ha fatto bene Cattivissimo però Cioè, bravissimo Carinissimi No, cioè, non posso non farci uscire il video Troppo simpatico No, no, devi, devi No, 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 no Troppo bello Troppo bello Il fan più coccolino Che ho trovato fino ad oggi Su FN Per me il più coccolino È un assoluto Cioè, è proprio pazzurdo Coccolissimo Al massimo proprio Mamma mia Andava vinto per forza Cioè, educatissimi Sì, assolutamente sì Cioè, ascolti